Ha staccato lo sfidante di quasi 1500 voti Pietro Briganti, impiegato di 51 anni ed ex assessore ai lavori pubblici che ieri è stato eletto sindaco di Cogli al Metauro. Con la lista Insieme per Crescere ha ottenuto il 63,29% dei consensi a fronte del 36,71% della squadra Energia in Comune guidata da Caglio Curina. Con un anno di anticipo per la nomina d'assessore regionale e la conseguente decadenza da primo cittadino di Stefano Guzzi, si è recato alle urne quasi il 60% degli aventi diritto al voto, decretando successo di Briganti in 11 seggi su 16. Si aspettava questo risultato? Onestamente in questi termini no, c'era una sensazione positiva che alleggiava nel nostro Comune, ma aver ottenuto questo risultato, questo importante risultato, non ce l'aspettavamo fino in fondo. Ha già pensato a come comporre la sua nuova giunta? Ancora no, siamo freschi di ieri, non ho neanche ben guardato i risultati di ogni ragazzo che è stato eletto ieri, ho guardato sì, quelli che purtroppo del nostro gruppo non ce l'hanno fatta e volevo per primi ringraziare loro perché hanno dato tanto e hanno consentito di vincere alla nostra compagine. Dopo la definizione della squadra, su che cosa si concentrerà? Le cose da fare sono tante, già tante sono state messe in cantiere, quindi lavoreremo per portare avanti le opere che stanno iniziando proprio in questi giorni e sicuramente la grande attenzione, come abbiamo sempre detto, sarà rivolta alla mobilità sostenibile, ovvero marciapiedi e piste ciclopedonali e la sicurezza delle scuole, prima di tutto. Che cosa si sente di dire alla cittadinanza? Beh, innanzitutto devo ringraziare tutti i cittadini per essere andati a votare e averci sostenuti e averci dato la loro fiducia. Voglio altresì stendere una mano verso la minoranza, persone tutte veramente valide con le quali mi piacerebbe instaurare un rapporto diverso da come normalmente si intende la maggioranza e opposizione. Avrei piacere che si potesse essere una collaborazione con loro, una collaborazione sempre nel rispetto dei ruoli, sono sempre pure opposizioni che facciano la loro critica quando è necessario, ma che sia anche qualcosa di propositivo che possiamo fare insieme.